Cerca spazio per una conclusione, trova soltanto un passaggio laterale per Perotti Va a sfidare Nika, Perotti in area, Perotti va giù, calcio di rigore Pocchiano Farcon Sempre Perotti e Rincon che scambiano, bello il tocco da biliardo di Perotti per Rincon, nessuno a chiudere Tocco d'esterno sul primo palo, Berpic sul palo lungo Deviazione in calcio sinistra su Perotti Perotti alza la testa, sfida Santa Croce, la mette sul destro, Perotti va in porta Non trova il gol per pochissimo, va in volo mirante, grande occasione per Perotti Parte in desto di Perotti, scheggia la traversa, parte alta e va sul fondo, non l'ha toccata Carneggi Tra l'altro si è trattato di gol decisivo, hanno portato quattro punti alla causa, la vittoria contro il Torino, il pareggio con la Fiorentina Qui Perotti, lo scambio continuo costa, ancora Perotti Non mi ha calcio, Buzzari la porta Perotti in mezzo Sono andati a staccare insieme, Burtizzo e De Maio, probabilmente ci sono anche ostacoli Per Cagliecone che di prima serve a maggio Ancora David Lopez, un regalo anche il suo, è la ripartenza della Genova Ma Perotti è partito, Fettazzini si è pronto al centro, Perotti vuole saltare anche al viola Il tocco intercettato da Perotti, che grazie all'uso di Koskari parte centralmente Da Perotti, si stacca Matri, Perotti vuole saltare, ci riesce Rami Calcio di punizione, giallo, anche per Rami Ha guardato Matri, sulla sinistra, aveva la possibilità Pornere ha battuto, Perotti in area di rigore, colpa di testa, di Pertoracci e questa volta il gol Perotti, a pra destra per Iago Pal, che sta arrivando Rincon Iago Pal, che palla nel mezzo, Perotti, posizione regolare, il tocco dentro per Pavoletti Che sbaglia clamorosamente, il gol del vantaggio Daniele, questo di Ghezal, poi la vanna che l'ha respinto al ventesimo, un pallone pericoloso Insomma, qualcosa c'è stato Genova che fa per linee centrale con Perotti Perotti, buona l'imbucata, Pavoletti, il gol del 2 a 0 C'è da capire se è stato intanto Perotti Attenzione Perotti, che accelera ancora, dall'altra parte c'è Iago Pal, che servito Iago Pal, che gol sinistro, fa 2 a 0 Iago Pal, che al tredicesimo Sette gol subiti Ha preso gol Forse con qualche recriminazione Claudio Per lo sviluppo della manovra in verticale che ha portato Niang al tiro Qui c'è ancora Berbic che se ne va C'è Niang in mezzo, il tocco Perotti Ecco il cross verso Borriello La parata miracolosa di Alvaro Pizzarri Che vale Il calcio d'angolo per il Genoa Strinic è andato più in alto di tutti a liberare Non è finita Bertolacci, anziché Fazzidis Zona tiro Occhio al tacco di Perotti, una magia Antonelli Tra le braccia di Raffaele Due volte Raffaele Grazie a tutti